Salve, sono Diana Sueni. Benvenuti. Oggi parleremo di come preservare l'equilibrio tra spiritualità, fortuna e femminilità. Credo che questi siano i temi più importanti che aiutano noi donne a capire pienamente noi stesse e ad assaporare ogni singolo giorno della nostra vita. Lavorare con Diana mi ha dato la possibilità di scoprire la mia forza femminile, di accettare e amare la mia femminilità. Lavorare con Diana è stata un'esperienza formidabile. Vedere molte donne che possiedono e sono incarnate nella propria forza e saggezza mi ha permesso di sviluppare le stesse caratteristiche. Quello che ho imparato dai suoi insegnamenti si è trasformato in un'incredibile crescita nelle relazioni, in liberazione da tutto il superfluo che non porta benefici. Aiutarvi a trovare le risposte a tutte le vostre domande è la mia più grande passione. Sono una persona molto pratica, per questo preferisco non parlare solo di teoria, ma condividere anche pratiche, rituali e meditazioni che vi aiutino a immergervi in queste conoscenze interessanti sull'arte femminile, sulle energie delle donne, su come proteggersi e proteggere la propria famiglia dalle influenze che distruggono la vostra vita, i vostri affari, le vostre relazioni e soprattutto la vostra salute. Mi piace che questa conoscenza abbia anche un adattamento pratico. Posso semplicemente andare al parco più vicino sulla spiaggia, sedermi e assaporare l'unione con la natura semplicemente muovendo il mio corpo. In questo modo mi sento piena di energie, pronta per iniziare la mia giornata e fare tutto quello che credevo fosse impossibile. Inizialmente ero molto scettica, però una voce dentro di me mi ha detto, devi andare per trovare le risposte che cerchi. Avevo la sensazione di essermi incastrata nella mia vita. Quando sono venuta per la prima volta e ho visto quelle belle donne arrivate da tutte le parti del mondo, ognuna di loro aveva la propria storia e ognuna di loro mi ispirava. Loro avevano lo stesso senso, senso dell'unità, dello spirito, dell'energia. È sensazionale. I semplici e interessanti rituali che abbiamo svolto in questo ritiro mi hanno fatto approfondire la conoscenza della mia missione. Ho capito che posso offrire molto alle persone, le posso ispirare, le posso guidare. Sento di avere più valore adesso rispetto a quando mi sentivo insicura. Quello di cui avevo paura, quello che mi frenava, non ha più importanza. Quando vedo tutte queste persone che hanno bisogno del mio aiuto, sento un forte desiderio e prontezza in me.